Abbiamo sentito che la sagra si farà, non si chiamerà più sagra, si chiamerà solo mandorle in fiore, cosa c'è di vero? Ci conferma? No, l'anno scorso come voi ricorderete lanciamo quel sondaggio sagra si, sagra no, perché lo facciamo? Perché in realtà la sagra quando nacque, nacque con un intento, alcuni anni dopo, poco meno di un decennio dopo si trasformò invece in festival internazionale del folklore, però nella vulgata generale è sempre stata sagra. Questo abbiamo visto che ci ha dato alcuni problemi, nel senso che il messaggio, la ricetta del festival internazionale del folklore del mandorle in fiore è una ricetta che ha un valore alto, la concordia tra i popoli, un messaggio di pace. Questa ibridazione di folklore davanti al Tempio della Concordia con l'accensione del tripode dell'amicizia è un grande messaggio che esula dal concetto di sagra tradizionalmente intesa, nulla a che vedere con tutto il riguardo con la sagra della porchetta di Ariccia, con la sagra del cacciofo di Cerda. E allora abbiamo visto che molto spesso alcuni giornalisti e commentatori nazionali hanno quasi banalizzato, è stato il caso l'anno scorso con Salvatore Mundi, qualcuno disse ma lo portiamo dove c'è una sagra, immaginando che ci fosse la sagra della porchetta non sapendo di che cosa stavamo parlando. E allora mandorle in fiore che mi pare che ha trovato anche da parte della città la risposta che era adeguata, da quest'anno il cliché seguito con l'ente parco che si occuperà e sarà un'iniziativa a regia dell'ente parco, il salto di qualità sarà invitare gruppi UNESCO e soprattutto muoverci nell'ambito del patrimonio dei beni immateriali vasto, vastissimo che la Sicilia e soprattutto il Mediterraneo ha. Grazie a tutti.